Ed è ormai questione di giorni la liberazione di due tartarughe curate nel centro di recupero del consorzio di Torre Guaceto. I due esemplari sono stati salvati dopo essere rimasti intrappolati nelle reti da pesca. D'ora in poi saranno seguite a distanza grazie a dispositivi GPS collocati sul Carapace che per almeno due anni tracceranno i movimenti dei due animali in giro per il Mediterraneo. E' una delle attività del consorzio finanziate con i proventi della gestione dei servizi di spiaggia, parcheggio e noleggio bici.